ciao a tutti bentornati bentornati su questo canale oggi voglio presentarvi questo prodotto filtra 5 filtra 5 fa sempre parte della famiglia dei materiali filtranti attraverso il packaging di eco quando notate che c'è una striscia sia verde che azzurra significa che il prodotto può essere utilizzato sia per acquari di acqua dolce che per acquari di acqua marina ma entriamo nel dettaglio andiamo a vedere insieme da che cosa è composto e che cosa è filtra 5 filtra 5 è una miscela composta nelle giuste percentuali da cinque elementi filtranti adsorbo depuro marino remover nitrati remover silicati fosfati e stilla per una spiegazione dettagliata di questi prodotti vi invito ad andare a guardare ogni singolo video dedicato ad ogni singolo prodotto filtra 5 nasce per soddisfare le esigenze di tutti gli acquari di piccole dimensioni sia d'acqua dolce che d'acqua marina laddove la capacità del filtro non è sufficiente per contenere più tipi diversi di materiali filtranti resine e polimeri ok perfetto ma quali sono quindi i vantaggi nel utilizzare filtra 5 in un acquario anche se un acquario di piccole dimensioni quali sono i vantaggi che noi otteniamo utilizzando questo tipo di prodotto sicuramente inserendo questo prodotto nel filtro biologico del nostro acquario otteniamo il ciclo dell'azotto completo la rimozione permanente dell'ione ammonio e dell'ammoniaca l'efficace riduzione del carico organico ed in particolare dei fosfati e nitrati con conseguente inibizione della crescita di alghi intestanti un'elevata nipidezza dell'acqua e l'eliminazione di cattivi odori bene ma come si utilizza filtra 5 come devo utilizzare filtra 5 nel mio acquario nel filtro del mio acquario andiamo a vedere insieme da cosa è composto il patching e come si utilizza il prodotto inserire il contenuto in due calze e sciacquare il prodotto sotto acqua corrente per eliminare eventuali polveri o residui inserire successivamente nel vano biologico del filtro ponendo attenzione a proteggere filtra 5 dallo sporco grossolano inserendolo dopo il filtro meccanico sostituire il contenuto di una calza ad ogni cambio d'acqua o dopo 30 giorni di utilizzo quali è il dosaggio che devo utilizzare filtra 5 all'interno del mio acquario il dosaggio standard di filtra 5 100 ml di prodotto vanno bene per filtrare e per garantire un'efficacia di filtrazione in acquari da 30 a 50 litri quindi parliamo di vasche medio piccole ok nei negozi filtra 5 è disponibile solo ed esclusivamente nel formato da un litro che è il packaging che vedete nella confezione che vedete nelle mie mani quindi questa confezione vi invito ad andare online sul sito dell'azienda sul sito di eco dove potete scaricare la scheda tecnica del prodotto e trovate anche la scheda di sicurezza del prodotto perfetto ragazzi con questo è tutto grazie mille per avermi seguito vi consiglio di andare a vedere anche i video di altri prodotti dimostrativi che vi interessano ciao grazie mille ciao a tutti